Ma questo mestiere che è la settima arte io l'ho conosciuta attraverso un lavoro che facevo che era servizi di matrimonio, servizi di famiglia, quindi praticamente lavoravo con le famiglie, cioè memorizzavo battesimi, compleanni, matrimoni, mio papà era fotografo, lavoravamo in uno studio fotografico, lui riparava le macchine fotografiche, quindi sono cresciuto all'interno di una famiglia che comunque faceva un lavoro artigianale, nel senso che lavorava con questi mezzi tecnici e che comunque non avevano niente a che vedere con il discorso cinematografico. Parallelamente mio papà mi portava al cinema, quindi mi faceva vedere dei film che comunque io ero molto piccolo, quindi capivo un po' meno, poi li ho capiti più da grande. Chi non vede il cinema, secondo me, il cinema del passato, le condizioni dell'immaginario proprio sono un po' più complicate, come quando io vado a filmare a livello psicologico la realtà, nel senso che la vivo, quindi la filmo, la memorizzo per poi portarmela nei miei film, quindi personaggi, guardare la loro gestualità, guardare il loro modo di esprimersi durante una giornata tipo. Dopodiché questi personaggi li costruisci, te li porti nel tuo mondo e costruisci le tue storie, nel senso che sono sempre cornici che servono sempre per il nostro modo di vedere. Ecco, un po' questo l'abbiamo fatto un po' tutti in Europa, in Italia in maniera particolare, con grandi registi come Fellini che ha raccontato se stesso, le sue fobie, Antonioni, quindi un cinema che comunque mi ha portato poi ad amare questo mestiere. Il modo migliore per impararlo è cercare di vedere le cose giuste, nel senso di non perdere tempo a vedere, diciamo, ecco, mi riferisco un po' a quello che sta succedendo nel nostro momento contemporaneo, cioè quindi le serie, tutti questi film che comunque fanno parte di quello che dicevo poco fa, di un immaginario del cinema, quindi alcuni non riescono, ecco, io dico sempre evocazione del cinema, ma là c'è uno scimmiottare continuamente un cinema che tu hai visto, quindi ti stuffa un po', ecco, ti fa soffrire, mi innervosisce per certi versi, allora preferisco rivedere le vecchie cose, come dicevo poco fa, ristudiarmele, rielaborarle, anche per poter crescere ancora di più. Quello che mi fa soffrire è questa condizione che si sta creando con un marierismo del cinema, che comunque non porta a nessuna parte, ecco, non c'è un'esigenza nel fatto di raccontare una storia, io mi dedico molto agli altri colleghi, ma comunque costruisco i miei film, le mie storie, faccio le mie considerazioni, ma parallelamente lavoro con immaginari altrui, cioè quindi storie di altri, immaginari di altri, quindi questo mi fa crescere sempre di più. C'è invece una condizione, diciamo, calcolata, un fatto che il regista sta più dalla parte del pubblico, nel senso che non è che non deve farlo, ma sicuramente non gli deve creare una condizione, questo è una cosa che mi fa soffrire. Il modo migliore per esorcizzare tutto questo è stare liberi, cercare di pensare anche a un pubblico che ti veda, quello è ovvio, è naturale, ma sicuramente non crearsi una condizione. Io vedo che c'è tanta condizione in questi film che vedo negli ultimi periodi e ho avuto l'opportunità in questi giorni di vedere tanta roba e quindi mi fa soffrire molto. Infatti ogni tanto quando mi succede accendo la radio, ascolto Bach, mi risento vecchie musiche perché sono legato molto alla musica, ma chi non lo è, quindi mi elabora più un immaginario, più che vedere, perdere tempo a vedere, cerco di immaginare delle immagini. L'aspetto sentimentale per questo mestiere è talmente tale che puoi anche detestare chi sta girando o chi sta raccontando una storia.